ciao benvenuti a cazzeggio catabiotrico ciao benvenuti ad un'altra puntata di cazzeggio catabiotrico sto facendo l'unboxing della telecamerina marz gaming mw1 che mi sono comprato su amazon in amazon warehouse pagata a 9 euro sembra un bel prodottino usb 2.0 fino a 30 fps 5 megapixel ok questo è il capture video fatto con il telefonino il resto farò direttamente dal capture dalla telecamerina ciao il video di prova viene direttamente dalla fonte di importazione della telecamerina importato dal software avs video editor che mi sembra che vada tutto a costo l'audio invece questa pista audio l'ho creata a parte con il microfono tono perché il campionamento della telecamerina del microfono non è dei migliori invece il microfono tono è meglio per il resto direi che la doppia combinazione telecamerina mw1 marz gaming e microfono tono mi passano e mi avanzano per quello che ne vado a fare